Massimiliano Fedriga, continua la battaglia contro le pensioni d'oro da parte della Lega Nord e che cosa chiedete? Noi abbiamo chiesto in modo molto chiaro e sembra anche equo che le pensioni sopra i 5.000 euro nette pagate col metodo retributivo vengano ricalcolate col metodo contributivo. Quindi se uno ha versato i soldi per percepire una pensione elevata è giusto che percepisca quella pensione. Ma se in altri casi, purtroppo nel nostro paese sono molti, qualcuno non ha diritto a una pensione magari da 10-20.000 euro al mese è giusto che venga ricalcolata e abbassata quella pensione. In un momento di difficoltà dove il governo Monti con la maggioranza del Partito Democratico di Renzi ha creato gli esodati in cui le aziende chiudono, in cui i disoccupati aumentano giorno per giorno, sembra un assolutamente inopportuno ed anzi vergognoso che continuino questi privilegi verso coloro che magari hanno avuto la promozione nell'ultimo mese di lavoro e si trovano a percepire pensioni d'oro. Purtroppo il Partito Democratico su questo ha cercato con scuse imbarazzanti e con manovre al limite dell'indecente di bloccare. Infatti la nostra preoccupazione è che la prossima settimana, quando si inizierà il voto su questa proposta di legge, il Partito Democratico, che è la maggioranza della Camera dei Deputati, voccerà la norma e quindi bloccherà l'iter per andare a sanare questa palese ingiustizia. Perché il Partito Democratico cosa vuole ottenere? Il Partito Democratico dice che bisogna approfondire il tema, che ci sono delle criticità. Ebbene, noi abbiamo proposto di confrontarci su ogni emendamento e se il testo è da migliorare lo miglioriamo, ma da questo a bocciare in tutto la norma significa non voler portare un testo perfetto, ma vuol dire semplicemente difendere coloro i quali prendono, come ricordo amato, 90.000 euro di pensione al mese. Il Partito Democratico si giustifica dicendosi che si rischia di andare a toccare il ceto medio. Voi come rispondete? È impossibile, perché la norma prevede appunto i 5.000 euro netti sopra i quali si fa il calcolo contributivo. Quindi il ceto medio e il ceto basso ovviamente sono assolutamente salvaguardati, e questa è una nostra preoccupazione, non andare a colpire le famiglie che a fatica arrivano in fine mese, ma invece bisogna andare a colpire i veri privilegi. E penso che 5.000 euro netti al mese non sia un ceto medio. Oltretutto ribadisco che noi chiediamo un ricalcolo contributivo, quindi se una versata ha diritto a 6-7.000 euro al mese, sono i suoi soldi e è giusto che se li riprenda. Il problema è che ci sono molti casi per cui quei soldi non sono stati versati e quelle pensioni sono a carico di tutti i cittadini onesti che versano i propri contributi all'Inps o ad altre casse e che si trovano a dover pagare i privilegi di altre persone.